Braccio di ferro sulla DAD in Puglia dopo la sospensione del TAR dell'ordinanza regionale Emiliano dispone lezioni a distanza con una nuova ordinanza. Welfar della Camorra per accrescere il consenso, le mani dei clan su green e sanità. E quanto emerso dall'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia. La porta del futuro per i giovani a Bari e il Job Center. La pandemia ha aumentato le consultazioni online, dando opportunità a molti di dare vita a start-up. Buon pomeriggio d'Antena Sud. Si sono svegliati con una nuova ordinanza sulle scuole. I genitori pugliesi, una nuova ordinanza che mantiene la didattica a distanza dopo l'ultima decisione del TAR. Si sono svegliati con una nuova ordinanza i genitori pugliesi. Come l'avranno presa i genitori? Scopriamolo insieme. Il bambino sta a casa, non studia online, quindi studia così. Come si sta trovando? Malissimo perché non socializza con i bambini, rimane insolato praticamente. È come se è una penalità questa qua, purtroppo. Ormai non si sa nulla, ormai è alla giornata, non ci possiamo regolare di niente. La paura ha per chi lavora, soprattutto, ma non è facile organizzarsi. Perché a casa c'è sempre il problema della rete, va, la bambina entra, esce, esce, entra, è un bordello. Lavorate entrambi, ho aiuto i nonni? No, entrambi lavoriamo noi. Questo è il momento che usciamo veloci e poi andiamo al lavoro. Quindi per noi è difficile, diciamo, organizzarci. Non va bene questa distanza secondo me. E va bene quella in presenza. Perché i bambini non vanno tanto bene a imparare a distanza. Però nel provvedimento si dice, qui tocca cautelarsi dalla variante inglese, tocca portare avanti il piano vaccinato. Però per i bambini non va bene, cioè non imparano come devono imparare. È vero che le regole e le cose bisogna rispettarle, però... Lui vuole tornare in classe. Che deve fare? Purtroppo, per questo che succede, deve fare. Il governo che si deve aggiustare. Se ne va uno, viene un'altra, peggio ancora. Io ho fatto sempre presenza, perché sono un insegnante particolare. Mi occupo di bambini particolari. Per quello io non sono stata mai in lockdown. Lavoro ininterrottamente. Sperando che la salute ci accompagni. Come è andata con l'ordinanza? Avete avuto messaggi stanotte ai genitori? Un giorno sì, un giorno no. Diciamo, i meme che stanno su internet la dicono lunga, su quelle che sono le ordinanze. Cioè, l'ironia fa da sé. Buon lavoro. Grazie. La regione contro il Tare, muro contro muro, dopo la decisione del Tribunale di sospendere l'ordinanza del governatore con la quale era stata resa obbligatoria la didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. I provvedimenti dei giudici non si discutono, se non impugnandoli e così farò. Detta la linea dai social, Michele Emiliano ribadendo come nelle intenzioni dell'ente ci fosse la tutela del personale. in piena pandemia da variante inglese. Non ha fatto in tempo ad auspicare il prolungamento della didattica a distanza fino all'inizio della primavera Pierluigi Lopalco, che dall'esecutivo sono stati costretti a fare i conti con un'inversione ad U. Cambio di rotta dunque, anzi no. La soluzione trovata da Via Gentile è un nuovo provvedimento, arrivato in notturna e valido fino al 14 marzo, che ricalca il precedente, nato per evitare che gli istituti vengano presi d'assalto. Sono costretto a intervenire, e annuncia a tarda sera il capo dell'Aggiunta spiegando come vengano fatti salvi laboratori e bisogni educativi speciali, a meno che si intende non vi siano ragioni non diversamente affrontabili, ma anche come l'idea sia legare nella nuova misura la temporanea sospensione della didattica in presenza, ad un termine per l'esecuzione della campagna vaccinale nelle scuole. Rimosso il limite del 50% alla presenza contemporanea nelle classi, che resta soltanto per le superiori, i dipartimenti di prevenzione delle ASL intanto dovranno comunicare al Dipartimento Salute dell'Ente di Via Gentile e all'Ufficio Scolastico Regionale la copertura vaccinale raggiunta, così da permettere agli istituti il ritorno in presenza, una volta soddisfatta la platea degli operatori che ne abbiano fatto richiesta. Dopo un Consiglio regionale durato quasi otto ore, l'Assemblea ha dato il via libera all'introduzione obbligatoria di vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari. Vediamo il servizio e poi a rientro in studio lo commenteremo insieme con il promotore di questa proposta di legge, il consigliere regionale Fabiano Amati. Con 28 voti favorevoli, due sospensioni per approfondimenti richiesti da entrambe le parti in aula, una interruzione per mancanza del numero legale, un lungo dibattito, la legge proposta dal consigliere regionale del Partito Democratico, Fabiano Amati, rivolta agli operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture pubbliche e private facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale, è stata approvata. Obbligo di vaccinazione per gli operatori con lo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura. La proposta di legge di Fabiano Amati, presidente della prima commissione, integra le disposizioni di sicurezza previste dalla legge regionale numero 19 del 2018 in materia di approvazione e controllo della trasmissione delle infezioni e inibisce l'accesso ai reparti degli istituti di cura agli operatori sanitari se non vaccinati contro il Covid, che per questo sono dichiarati inidonei a svolgere l'attività in reparti a rischio e pregiudicano la formazione dei turni di lavoro. A tutto ciò si intende ovviare ampliando alla vaccinazione anti-Covid la legislazione regionale in materia di obblighi vaccinali. Allora commentiamo quanto appena ascoltato con il diretto interessato di questa proposta di legge effettiva. Fabiano Amati, consigliere regionale del Partito Democratico, probabilmente è la prima in Italia, è così? Sì, penso di sì, non ho notizie di leggi simili nelle altre regioni italiane. Si dice dunque soddisfatto, ci è voluto un po' di tempo, ci sono state anche delle interruzioni, come è andata in Consiglio? C'è stato un dibattito molto ricco, come sempre accade, su questi argomenti di un certo rilievo. Insomma, quello che conta, mi è portato il risultato a casa, mi è dispiaciuto che ci sono stati soltanto i voti della maggioranza, perché dalla minoranza invece ho ascoltato interventi che si appurano direttamente, ma lasciavano trasparire argomenti che solitamente usano i Novax. E non mi pare che da quelle parti politiche, insomma, per essere attenti al loro retroterra, si possa parlare in questo modo. Ci sarà, secondo lei, qualche polemica proprio da parte degli operatori sanitari? Qualcuno, appunto, si era forse espresso in maniera contraria. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Ma guardi, se le polemiche dovessero rispecchiare le percentuali di colori quali si sono vaccinati, di colori quali hanno obiettato, questi ultimi sono il 25%, mi pare di poter dire circa, mi pare di poter dire che il 75% pensa che sia indispensabile l'obbligo alla vaccinazione. E quindi, siccome io non penso che la pubblica amministrazione debba lavorare sui numeri, sul consenso, ma soltanto su decisioni utili, in questo caso mi pare di poter dire che nessuno è libero di decidere una cosa che poi fa ammalare gli altri. Ecco, questa libertà non ce l'abbiamo proprio secondo la Costituzione. E la legge pugliese è stata una legge ritenuta già costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con una sentenza di qualche anno fa dove la relatrice all'epoca fu Marta Cartabia, l'attuale Ministro di Giustizia. Perfetto, grazie per la sua disponibilità. Grazie al Consigliere regionale Fabiano Amati. Grazie a lei, grazie. Nonostante l'annuncio di apertura dell'ospedale in Fiera del Levante in Pompa Maglia da parte del Governatore Emiliano, ormai è passato più di un mese, la struttura ancora non apre i battenti. Il 16 gennaio scorso il Presidente della Regione, Michele Emiliano, aveva annunciato l'apertura di lì a poco dell'ospedale in Fiera del Levante. I tempi però si allungano e si allungano ancora una volta. L'apertura slitta e potrebbe avvenire ai primi di marzo. Sono tuttora in corso, infatti, gli interventi necessari a concludere l'iter autorizzativo e a predisporre gli organici. La struttura creata in Fiera del Levante è stata predisposta per contrastare la pandemia con posti letto di terapia intensiva e preintensiva, un ospedale dal costo di oltre 17 milioni e mezzo di euro e un fitto mensile di 110 mila euro. Ci sono però ancora da allestire i macchinari e il materiale relativo alle attività ospedaliere e non solo. Devono essere allestiti anche i salottini previsti per le famiglie che avranno la possibilità di incontrare i loro congiunti ricoverati in video, previsto addirittura che gli stessi familiari possano assistere alla composizione della salma. E poi un problema che si ripropone ancora è quello del personale. Mancherebbe infatti quello infermieristico specializzato per le terapie intensive e sarà necessario individuare e reclutare infermieri ed impiegare solo in fiera considerato che i reparti di terapia intensiva al Policlinico di Bari, che gestisce la struttura, continueranno ad essere attivi e allo stesso tempo c'è personale però a tempo determinato. Pubblicato il report della Direzione Investigativa Antimafia relativo al semestre 2020, il primo semestre, in Puglia le forze dell'ordine sono state impegnate a contrastare le attività illecite delle organizzazioni criminali che hanno approfittato del periodo di difficoltà dovute alla pandemia per insinuarsi nel tessuto economico della società. La criminalità organizzata pugliese si presenta come affermato dal procuratore generale di Bari con i tratti di una moderna mafia del click che sposta denaro, lo investe, lo scambia, lo occulta con un colpo di mouse ed entra nel tessuto sano dell'economia e lì si nasconde. E' quanto scritto nel report della DIA relativo al primo semestre 2020. La criminalità pugliese ha sin da subito sviluppato la spiccata vocazione affaristico-imprenditoriale mutuata dalla Camorra e dall'Andrangheta nelle quali affonda le proprie radici, criminalità sempre più perversivamente infiltrata nella pubblica amministrazione. In Puglia, durante il lockdown dovuto alla pandemia, le forze dell'ordine hanno monitorato l'evoluzione di un fenomeno che è stato definito welfare mafioso di prossimità a favore delle imprese in crisi, finalizzato a cogliere opportunità per future connivenze o esautorare i titolari delle aziende, assumendo così il controllo di queste ultime. In attuazione di una politica essenzialistica già avviata in concomitanza della precedente crisi economica e comunque tipica di alcuni clan come i Parisi di Bari, il questore Giuseppe Bisogno, le cui parole sono riportate nella relazione, ha evidenziato che da un lato le organizzazioni si fanno carico di fornire un welfare alternativo a quello dello Stato, dall'altro si adoperano per esacerbare gli animi nelle fasce di popolazione che cominciano a soffrire lo Stato di povertà derivante dalla congiuntura negativa attuale. È il quadro perfetto nel quale le mafie si affrettano nel poter rimettere nei circuiti illegali di piccole fabbriche, negozi, ristoranti, bar il denaro contante procacciato con lo spaccio, le estorsioni e l'usura. I piccoli imprenditori chiudono e iniziano ad accumulare debiti non pagando i fornitori, il personale o l'affitto commerciale e per questi i prestiti delle mafie, accompagnati magari dalla richiesta più o meno esplicita di subentrare nella gestione dell'azienda, possono essere l'unica ancora di salvezza per non cessare l'attività. Ed è tutto, restate con noi, l'informazione torna tra pochissimo. Continuiamo a seguire la manifestazione di protesta davanti ai cancelli della Camera di Commercio di Foggia. I ristoratori hanno ottenuto un incontro con il prefetto Raffaele Grassi. Vediamo com'è andata. Allo stato attuale non è cambiato niente. Il prefetto, su eccellenza, ha preso un preciso impegno nei confronti dei ristoratori di farsi portavoce presso il governo centrale affinché cambi questa norma tirata fuori dalla regione che non permette il ristoro in presenza di un turc non a posto. Andrebbe dunque rivista la formalità normativa relativa al bando ristori della regione Puglia destinato alle imprese che sono state costrette a rimanere chiuse nella settimana tra l'8 e il 14 dicembre 2020 con l'estensione della zona arancione a 20 comuni della provincia di Foggia, BAT e Bari nella parte relativa alla clausula del DURC documento che attesta la regolarità contributiva per l'accesso ai ristori. I ristoratori foggiani a seguito della protesta avvenuta davanti ai cancelli della Camera di Commercio di Foggia hanno ottenuto un incontro con il prefetto Raffaele Grassi nel corso del quale ha preso parte telefonicamente anche il vicepresidente della regione Raffaele Piemontese. Entrambi hanno assunto l'impegno nei confronti della categoria a verificare la possibilità di modificare il dettaglio burocratico bloccante per consentire alla quasi totalità delle aziende penalizzate di poter accedere ai ristori previsti dalla regione. Stessa cosa ha fatto Piemontese che insieme con il prefetto si sono dati appuntamento dopo che noi andiamo a fare una richiesta ben precisa di farsi portavoce sempre per esso lo Stato centrale. Se lo Stato centrale cambia la norma che interpone praticamente questo paletto del DUC allora potranno gestire in maniera diversa i distrutti altrimenti le cose non si risolvono e quei soldi torneranno indietro perché non potranno essere spesi. Vi siete dati dei tempi? Vi hanno garantito dei tempi? I tempi che ci siamo dati sono i tempi strettamente necessari affinché il governo centrale reperisca questa lettera trasmessa dal prefetto questo nei tempi una settimana dieci giorni non di più. Non solo i ristoratori affogge una protesta che però coinvolge davvero la Puglia e non solo a Bari hanno manifestato questa volta gli operatori dello spettacolo che ormai sono ovviamente fermi da un anno. Auspichiamo che questo governo finalmente approvi una legge per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. quello che chiediamo è un immediato provvedimento per rinnovare un sostegno a tutti i lavoratori e le lavoratrici per tutto questo difficilissimo anno che ancora ci aspetta e di programmare velocemente le possibilità delle riaperture in maniera però che al tempo stesso non confliggano con le norme di sicurezza. è un anno dalla chiusura completa di teatro e cinema tanne la parentesi la piccola parentesi estiva questo mondo è proprio diciamo alla frutta non si riesce diciamo più a decollare si opera soltanto a livello multimediale però abbiamo necessità che comunque si ricomincia a fare cultura sul serio si riaprano i teatri e la gente comincia a tornare a una normalità anche se con tanta difficoltà però diciamo un ritorno alla normalità ci sono tanti lavoratori che hanno bisogno di sostegno tanti lavoratori che non si riescono a intercettare con gli ammortizzatori sociali ci auguriamo che il governo ci ascolti e che dia ci sia un'inversione di tendenza abbiamo necessità di interventi che vadano nella direzione del sostegno dei lavoratori ma anche di quelle imprese sane questa non è più una situazione che può protrarsi ancora pertanto abbiamo necessità di riaprire di riaprire in sicurezza di tutti dei lavoratori ma anche di coloro che fruiscono della cultura e dello spettacolo il comparto della cultura e dello spettacolo è un comparto che è il cuore pulsante di tutta la nostra regione di tutta la nostra nazione attraverso dieci siti web pirata sono stati chiusi dalla guardia di finanza di Bari avrebbero diffuso giornali online da scaricare in maniera gratuita per gli utenti la guardia di finanza di Bari ha eseguito il sequestro preventivo d'urgenze emesso dalla procura di dieci siti web pirata oscurati tramite i quali sarebbero stati diffusi giornali riviste e ebook permettendo a chiunque di scaricare illecitamente gratuitamente le relative copie digitali attraverso il link di collegamento a risorse web gestite su server esteri l'operazione è stata ribattezzata che guaio e dello sviluppo dell'inchiesta avviata nell'aprile 2020 dopo la denuncia della FIEG sulla diffusione dei file pirata sulla piattaforma telegram che fino a oggi ha portato alla chiusura di 329 canali e gruppi di utenti durante le indagini sono stati identificati responsabili della distribuzione illecita di migliaia di copie digitali di quotidiani nove dei quali indagati per violazione della legge sul diritto d'autore nell'agosto scorso alcuni degli indagati sono stati destinatari di perquisizioni domiciliari in Puglia Campania Marche Lazio ci chiuderanno tutto per cui l'unica cosa che posso fare è svelarvi dove scarico i giornali e ognuno per la propria strada prima che finiamo tutti nella merda è uno dei messaggi intercettati dagli investigatori durante gli accertamenti dopo l'oscuramento dei primi canali dall'analisi dei dispositivi informatici sequestrati è emerso che il responsabile della gestione dei siti non identificati non percepiscono dagli utenti alcun corrispettivo per l'accesso ai relativi contenuti traendo profitto dalla pubblicità inserita nelle relative pagine sotto forma di banner e pop-up si ipotizza a carico degli amministratori dei siti al momento ignoti i reati di violazione della normativa sul diritto d'autore riciclaggio ricettazione accesso abusivo a un sistema informatico telematico e furto nel settembre scorso il primo maxifurto di bottiglie di vino e di champagne lungo via l'Europa a Bari la polizia adesso ha arrestato quattro persone a distanza di qualche mese dal furto nel deposito del venditore all'ingrosso Vinarius avvenuto nella zona industriale di Bari il 30 settembre scorso ci sono i primi sviluppi la polizia ha arrestato quattro presunti componenti la banda che quella notte portò via 3380 bottiglie di champagne e vini pregiati gli investigatori della squadra mobili hanno condotto in carcere Vito Genchi 50 anni mentre i domiciliari Rocco Ciampa 45 Vito Mere 41enne Carlo delle Foglie anche lui di 51 anni tutti già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio secondo gli uomini della squadra mobile di Bari coordinati dal sostituto procuratore Grazie Rede i quattro insieme ad altri complici non ancora identificati caricarono il bottino per un valore di circa 150 mila euro in due furgoni rubati poco prima di mettere a segno il colpo in un'azienda vicina le indagini sono state supportate dall'attenta analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e dal tracciamento dei veicoli utilizzati per effettuare i sopralluoghi i quattro arrestati stando a quanto emerso dall'attività investigativa appena due ore prima del furto si trovarono all'interno dell'enoteca fingendosi clienti Ciampa dopo essere entrato si sarebbe diretto nell'attiguo deposito dove ha potuto rendersi conto della disposizione della merce selezionando quella da trafugare e avrebbe manomesso la porta d'ingresso poi con una bomboletta spray avrebbe coperto una delle telecamere di videosorveglianza nel frattempo gli altri complici fingendosi i clienti avrebbero distratto le commesse tra gli scaffali dell'enoteca poi si allontanarono quella sera stessa intorno alle 21 altri componenti il gruppo di ladri hanno messo a segno il maxifurto le indagini proseguono proprio per stringere il cerchio attorno a tutta la banda truffa delle mascherine e sette baresine guai avrebbero venduto gialli igienizzanti e mascherine contraffatte per questo la procura di Bari ha chiuso sette fascicoli di indagine a carico di altrettanti farmacisti e commercianti nel barese chiedendone il rinvio a giudizio per i reati a vario titolo contestati di frode nell'esercizio del commercio manovre speculative sulle merci e truffa aggravata i fatti risalgono al lockdown dell'anno scorso i prodotti in questione erano privi delle autorizzazioni sanitarie previste e venivano venduti anche con rincari fino al 5.000% a tre titolari di altrettante farmacie tra Altamura e Bari la procura contesta di aver venduto tra febbraio e aprile 2020 più di 3.000 flaconi di gel igienizzanti che sull'etichetta non riportavano le autorizzazioni alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute e della Commissione Europea e ad uno dei tre anche di aver venduto mascherine pagate 22 centesimi al costo di 15 euro l'una con l'aggravante di aver approfittato della necessità di protezione sanitaria in tempo di emergenza epidemiologica sottolinea la procura un 37enne di bitonto rischia invece il processo per aver acquistato e rivenduto tramite Facebook circa 150 mascherine a prezzi superiori a quello di mercato per tre titolari di attività commerciali con sede a Modugno la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per aver venduto o comunque custodito nei propri negozi migliaia di confezioni di geligianizzante e di salviettine antibatteriche prive anche queste sull'etichetta delle dovute autorizzazioni sanitarie e quasi 100.000 mascherine con marchio contraffatto a Coltello è uccisa l'ex marito nell'agosto del 2019 da Acquaviva delle Fonti è stata disposta la perizia psichiatrica sarà una perizia psichiatrica stabilire se la 29enne Nancy Lucente era capace di intendere e volere quando il primo agosto del 2019 uccise il marito trentenne accoltellandolo durante un litigio accogliendo la richiesta della difesa la Corte di Assise di Bari ha disposto la perizia nominando Roberto Cattanesi psicopatologo forense l'incarico gli sarà conferito il prossimo 16 marzo stando alla consulenza di parte eseguita dalla psicologa Emanuela Soletti incaricata dalla difesa dell'imputata la 29enne soffrirebbe di una depressione cronica e di un disturbo di personalità paranoide che sarebbero verosimilmente esito di violenza psicologica e fisica grave e ripetuta iniziata in età adolescenziale perpetrata per 14 anni la donna attualmente detenuta agli arresti domiciliari in una comunità è a processo per il reato di omicidio volontario con l'aggravante di aver ucciso il coniuge anche se i due si stavano separando contro la 29enne assistita dall'avvocato Leonardo Bozzi si sono costituite parti civili la curatrice dei tre figli minori e la mamma della vittima stando alle indagini dei carabinieri la donna avrebbe accoltellato il marito al culmine di un litigio nel vano scale del palazzo dove entrambi abitavano ad Acquaviva delle Fonti 100 grammi di cocaina nascosti tra salumi e formaggi in un sacchetto sottovuoto indicato come scamorza stagionata sono stati trovati dei carabinieri in un'auto Ford Fiesta fermata nei pressi del casello autostradale di Foggia a bordo un 36enne e un 26enne provenienti dal pescarese per il 36enne è scattato subito l'arresto i 100 grammi di cocaina se suddivisi e messi sul mercato sarebbero state oltre 450 dosi un foggiano è stato arrestato in flagranza per furto la polizia lo ha bloccato mentre transitava in via da Deda mentre spingeva uno scooter nello stesso momento hanno notato un ragazzo che chiedeva il loro intervento e intuito che potesse trattarsi di un furto hanno inseguito il ciclomotore il ladro è stato subito bloccato e posto agli arresti domiciliari proseguono i servizi di controllo dei carabinieri nel Foggiano trattore maggiore Sansevero due fratelli sono stati denunciati per minacce e resistenza pubblica ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità i cacciatori Puglia insieme ai cani antidroga invece hanno effettuato perquisizioni in via Mario Carli di Sansevero è stato scoperto un locale protetto da una porta blindata di vito a vero e proprio market della droga recuperate decine di grammi di mariana ed eroina bilancini di precisione e materiale per il confezionamento oltre a 1500 euro provento dell'attività di spaccio Degrado in piazza Risorgimento a Bari vediamo Siamo in piazza Risorgimento nel centro di Bari purtroppo gli anti di vandalismo qui non si arrestano la piazza ha perso il suo decoro e la gente preferisce altre zone per lo shopping qui infatti sono molte le attività che chiudono Questo è ciò che resta del bike sharing in piazza Risorgimento anche perché il bike sharing ha lasciato il posto ai monopattini ma le strutture non sono state tolte anzi vengono danneggiate e si stanno da sole anche danneggiando con la ruggine che ormai le sta completamente distruggendo questo è un cestino alternativo ecco come viene utilizzato uno dei resti del bike sharing negli anni 90 era il salotto buono della città la via dello shopping adesso invece nel degrado restano anche i negozi chiusi e continuate a segnalarci ciò che non va nella vostra città nel vostro comune redazione chiocciolantennasud.com è avvenuta oggi a San Severo la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica posata la prima pietra per la costruzione di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati dall'arca e ubicati a San Severo in via Giovanni Guareschi e via Mario Carli il comune d'Auno è risultato destinatario di un finanziamento regionale di oltre 3 milioni di euro negli ultimi 5 anni ci ha tenuto a precisare il vicepresidente della regione Raffaele Piemontese sono stati 1170 i nuovi alloggi di ERP previsti in tutta la Puglia con uno stanziamento di risorse di 250 milioni di euro si tratta di una vitale boccata d'ossigeno per fronteggiare l'emergenza abitativa ha commentato invece il sindaco Miglio indispensabile per venire incontro alle esigenze delle famiglie più bisognose si tratta di una programmazione che riviene dal passato come si diceva un piano integrato di recupero delle periferie che prevedeva un intervento pubblico da parte di regione Puglia per la realizzazione di un numero cospicuo di alloggi popolari la cantierizzazione dell'intervento richiederà da un anno a un anno e mezzo siamo soddisfatti perché riusciamo a dare una buona risposta a un'esigenza abitativa importante questi 20 alloggi sono alloggi di edilizia e residenza repubblica che il comune di Sansevero naturalmente assegnerà in virtù di quella che è la graduatoria approvata dal comune di Sansevero che certifica quella che è la domanda di edilizia e residenza repubblica e non è un caso che è proprio per questo che insieme al comune di Sansevero abbiamo anche partecipato al bando dell'abitare sostenibile per cercare di drenare finanziamenti a per la costruzione di ulteriori 10 alloggi oltre a questi che verranno in questa zona adiacente e per la riqualificazione di 496 alloggi di proprietà Arca che insistono sul comune di Sansevero completiamo anche con la sottoscrizione di una convenzione per l'apertura di uno sportello delocalizzato degli uffici Arca nel comune di Sansevero Il presidente dell'autorità portuale meridionale Ugo Patroni Grifi risponde all'allarme dei pescatori di Barletta e dice per accelerare l'avvio dei lavori chiederò il commissariamento Risponde al grido di dolore dei pescatori di Barletta il presidente dell'autorità portuale del mare adriatico meridionale che gestisce i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli Il professor Ugo Patroni Grifi anzitutto esprime dispiacere per quanto accaduto tracciando il punto sullo stato dell'arte dei lavori che finalmente andranno a proteggere il porto e i pescherecci dalle mareggiate Con un gioco di squadra fatto dall'autorità di sistema portuale l'amministrazione comunale, i deputati che rappresentano Barletta e quindi il senatore Damiani, in primis, ma anche devo dire Assuntira Messina, i due consiglieri regionali Nennè e Caracciolo noi siamo riusciti a ottenere una cosa che era isperata un finanziamento di 25 milioni di euro per allungare il foranimo e questo permetterà di avere un porto più sicuro e anche un porto che non si insavvierà nel futuro come invece attualmente avviene perché le opere di protezione sono inadeguate Ora stiamo aggiornando il progetto che abbiamo trovato perché c'è un progetto molto risalente negli anni che va aggiornata la nuova normativa si sta facendo, stiamo facendo delle verifiche che la legge prevede, le caratterizzazioni soprattutto dei sedimenti dell'area in cui si deve andare a realizzare il porto dopo che ci sono alcuni passaggi amministrativi a realizzare il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in primis, prima di poter poi passare alla vera e propria gara C'è un grande ostacolo con il quale bisogna fare i conti si chiama burocrazia per questo il professor Patroni Griffi chiederà il commissariamento dell'opera per accelerare i lavori C'è da dare una risposta in tempi celeri quindi il mio auspicio che ora comunicherò anche ai deputati che rappresentano Barletta in Parlamento è che quest'opera sia oggetto di commissariamento per evitare che quest'opera sia ulteriormente rallentata dal vizio italico della burocrazia dall'epifenomeno nocivo della burocrazia difensiva è necessario che quest'opera goda di una corsia preferenziale che attualmente può essere assicurata solamente dal cosiddetto modello genua dall'attribuzione di poteri commissariali per poter arrivare acceleramente alla realizzazione è un impegno che mi prendo sono convinto di trovare attenti ascoltatori nei deputati che ho citato prima sicuramente confido che i consiglieri regionali e l'amministrazione siano al mio fianco Il Job Center di Bari ha aumentato la propria offerta formativa e lavorativa grazie anche alla pandemia che ha permesso di sviluppare la piattaforma online Un'attività sempre in crescita quella di Porta Futuro il Job Center del Comune di Bari la pandemia ha potenziato l'offerta online incrementando di fatto tutte le attività di lavoro Tutti i servizi sono stati declinati sia in modalità in presenza con tutta una serie di attenzioni legate a appuntamenti e adesione alle regole che erano state imposte ma moltissimi servizi sono stati portati in modalità online Consideriamo comunque l'attività in presenza una sorta di punto di forza rappresenta un elemento che ci viene anche riconosciuto in termini di gradimento Io vedo diversi sportelli in questo momento come sono organizzati, quanti sono? Dunque, questa zona qui è la zona che forse è quella che ha avuto le maggiori penalizzazioni perché era un'area dedicata alla libera consultazione Chiaramente l'emergenza sanitaria ha determinato un ridimensionamento di questi servizi La maggior parte dei servizi si svolgono nella parte... Allora, mentre ce lo racconta magari ci spostiamo così ci fa vedere Volentieri L'area del desk, quella iniziale dove si svolge la maggior parte della nostra attività come dire, con i cittadini Il cittadino sta facendo una consulenza sulla compilazione del CV L'offerta è molteplice Quello a cui fa riferimento sono le consulenze soprattutto per la creazione d'impresa e per lo start-up d'impresa Noi, diciamo, invitiamo le persone comunque a visitare il sito portafuturobari.it Offerte di lavoro che sono messe a disposizione da organismi che sono anche fuori dalla rete regionale Stiamo avviando una grande iniziativa con le scuole superiori un gancio per quello che riguarda l'orientamento in uscita dei ragazzi delle superiori Guardare alle offerte del mercato del lavoro anche, diciamo, in un momento in cui magari sono impegnati a terminare il percorso scolastico Parliamo di solidarietà con la donazione di sei ventilatori polmonari È molto apprezzato in questo momento della pandemia che stiamo passando tutti questa pandemia che ha inginocchiato tutto il mondo ma specialmente per i nostri popoli e governi ha dimostrato che siamo più che mai forti e legati uno con l'altro abbiamo aiutato uno l'altro durante quest'anno ecco, adesso viene questa donazione che è molto apprezzata per noi Commenta così la numero uno del Consolato Generale dell'Albania la solidarietà della Puglia al paese delle Aquili alla forma di sei ventilatori polmonari tecnologicamente avanzati e dedicati all'ossigenoterapia di pazienti affetti da insufficienza respiratoria Il Corpo Consolare della Regione ma anche di Basilicata e Molise insieme a Divella ha scelto di donarli un atto di fratellanza che passa anche da 40.000 mascherine inviate e che coinvolge 45 tra consoli generali, onorari e vice residenti nei tre territori chiamati a fine settembre al cinquantenario delle relazioni diplomatiche lungo le coste dell'Adriatico del marzo scorso le immagini dell'aeroporto di Tirana con il premier di Rama a salutare un team di 30 tra medici e infermieri partiti per l'Italia un legame tra le due sponde che non a caso vedrà il capo del governo albanese a Bari e Brindisi i prossimi 5 e 6 marzo a 30 anni dall'arrivo della Vlora Abbiamo raccolto la richiesta della collega Consoli Generale dell'Albania che ci ha segnalato l'emergenza appunto delle varianti anche in Albania io vorrei dedicare comunque un pensiero di cordoglio in questa giornata a Sua Eccellenza Attanasio che è al carabiniere Iacovacci che sono morti per rappresentare e per difendere il nostro paese Con questo gesto vogliamo aiutare la popolazione che è stata colpita dal Covid duramente e sappiamo anche che con le nuove varianti ha colpito in maniera particolare anche le fasce più giovani d'età per cui la donazione di questi ventilatori e queste mascherine sicuramente è un gesto concreto nei loro confronti Il Gal Dauno Fantino ha finanziato 45 imprese del territorio È stato uno dei bandi più partecipati in Puglia nonché possibilità per imprenditori cittadini rientranti nel territorio del Gal Dauno Fantino di investire nell'extragricolo diversificando le loro attività o di creare una start-up Parliamo dei 2,5 milioni di euro di finanziamento che svilupperanno economia diretta per 5 milioni messi a disposizione per i territori di Manfredonia Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia Trinitapoli e Zapponeta grazie al bando FEASR 5.3-5.4 con fondi europei per la creazione di start-up di imprese innovative extraagricole rientrante nel piano di azione locale del Gal nell'ambito del PSR Puglia nei giorni scorsi sono stati emessi decreti di concessione per i 46 progetti ammessi e finanziabili su 68 proposte giunte tante le idee innovative avanzate soprattutto da donne under 40 e giovani tra i progetti finanziati ci sono quelli relativi alla piccola ricettività con servizi di bike sharing atelier, tessuti artigianale un laboratorio di lavorazione a pietre e marmo pasticcerie, gelaterie bio e reti tra imprese a quali settori più concretamente si rivolge? settore commercio, servizi in genere nel settore artigianale e le domande che sono pervenute hanno tutti quanti una caratteristica che è quella di presentare degli elementi di innovazione che consentiranno di poter diversificare le attività la fetta più grossa c'è stata nel settore del commercio e del turismo in questo periodo storico il ruolo e le funzioni del Gal sono molto importanti per stare vicini al territorio il ruolo è stato sempre importante dei Gal in questo momento sono d'accordo è più importante si avverte una presenza maggiore ci siamo sempre caratterizzati svolgendo un ruolo di vera e propria agenzia sul territorio abbiamo costituito un contratto di rete con degli operatori che cosa vi dicono gli imprenditori del territorio? la loro difficoltà sono procedure, burocrazia e tempi abbastanza lunghi noi siamo una struttura più snella quindi il semplice discorso che li affianchiamo in queste fasi per loro è importante restate comodi in poltrona c'è Claudio Carbonara con lo Sport arrivederci ciao a tutti Grazie a tutti.